Ciao a tutti. Siamo appena rientrati dalla Svizzera. Abbiamo fatto un bel weekend e ci siamo trovati benissimo e adesso ricominciamo a fare qualcosa per voi. Ciao a tutti. Siamo arrivati da Svizzera. Abbiamo fatto un bel weekend. Come andiamo a fare una salsa di pustacchia. le façonno con cuocester si è così volevo pastire la natura per mettere la natura vorrei vedere cosa abbiamo vedete la natura de Brio a me piace della natura la natura di Brio Brio a Brio non ci si trattava la natura non sognò che ho un po' avevo una performance ma io ho avuto una carta ... e poi mettere il paneo e poi mettere il paneo e mettere il paneo e mettere il paneo qui abbiamo 200 g di pistacchio senza sale e tostati qui abbiamo 200 g di fustog ma è un pollo ma è un pollo ma è un pollo e qui mettere il paneo e molto importante e mettere il paneo e mettere il paneo e perchè non c'è più l'olive ma c'è più mettere il paneo mettere il paneo e mettere la assagione 200 g e adesso andiamo 30 secondi 30 secondi 30 secondi 30 secondi 30 secondi 10 secondi vediamo un po' profumo è diventato un po impastato ma ci vuole appunto per farlo diventare super morbido ci vuole un olio allora adesso andiamo a pesare la metà del peso del pistacchio 100 grammi di olio a pesare la metà del pistacchio 100 grammi di olio mettiamo in gioco e insomma vai piano ok ora facciamo il tec ciuta ti ghaffle buono bravo perfetto bravo perfetto ok adesso 10 secondi velocità 10 allora abbiamo finito vi faccio vedere che qua abbiamo una alle mandorle che sta quasi finendo quindi dovremmo fare anche questa e una alle nocciole questa è una bella piena finestre qui e questo è un altro una delle nocciole e una delle nocciole questo adesso non ci fanno la carne o non ci fanno lo fanno troppo buono la mettiamo su tante parti ok ok e la mia cena è quasi pronta E la mia cena è pronta 200 grammi di pistacchio, questo è il risultato, allora andiamo a preparare la mia cenetta La mia cenetta è leggera, sano e nutriente, la mia cenetta La mia cenetta è leggera, calzata e migliore la mia cenetta è leggera, la mia cenetta è leggera principalmente buonissima e comunque si merita un allora questa quantità di nel vasetto la conservo per circa un mese nel mobiletto e questo è quanto spero che vi sia piaciuto il mio bel video al prossimo ciao 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 ciao